M. Leopold Bloom mangiava con gran gusto l'interiore di animali e di volatili. Gli piaceva la spessa minestra di rigaglie, gozzi piccanti, un cuore ripieno arrosto, fette di fegato impanate fritte, uova di merluzzo fritte. Più di tutto gli piacevano i rognoni di castrato alla griglia che gli lasciavano nel palato un fine gusto d'urina leggermente aromatica. I rognoni erano nel suo pensiero mentre si muoveva quietamente per la cucina, sistemando le stoviglie per la colazione di lei sul vassoio ammaccato. Luce e aria gelida nella cucina, ma fuori una dolce mattina d'estate dappertutto. Gli facevano venire un po' di prurito allo stomaco. I carboni si arrossavano. Un'altra fetta di pane e burro. Tre, quattro, giusto. Non le piaceva il piatto troppo pieno. Giusto. Lasciò il vassoio, sollevò il bollitore dalla mensola e lo mise di sbieco sul fuoco. Stava lì, grullo e accosciato col beccuccio sporgente. Tazza di tè fra poco. Bene. Bocca secca. La gatta, interita, girò attorno a una gamba del tavolo con la coda ritta. Ma miau! Oh, sei qui, disse Mr Bloom distogliendosi dal fuoco. La gatta rispose miagolando e girò di nuovo, interita, intorno a una gamba del tavolo, miagolando. Proprio come quando incide impettita sulla mia scrivania. Prrrr. Crattami la testa. Prrrr. Mr Bloom guardava curioso, gentile, la flessuosa forma nera. Pulita a vedersi. La lucidità del pello liscio. Il bottoncino bianco sotto la radice della coda. I lampeggianti occhi verdi. Si chinò verso di lei, mani sulle ginocchia. Latte per la miciolina, disse. Miau! piagnò cola la gatta. Li chiamano stupidi. Capiscono quel che si dice meglio di quanto noi non si capisca loro. Capisce tutto quel che vuole. Vendicativa anche. Crudele. La sua natura. Curioso che i topi non stridano mai. Sembra gli piaccia. Chissà che cosa le sembro io. Alto come una torre? No. Mi salta benissimo. Ho paura dei polli, lei, disse canzonatorio. Paura del pioppio. Mai visto una miciolina così sciocchina? Miau! disse forte la gatta. Guardò in su con gli occhi avidi, ammiccanti per la vergogna, miagolando lamentosamente e a lungo, mostrandogli i denti biancolatte. Egli guardava le fessure nere degli occhi che si restringevano per l'avidità fino a che gli occhi divennero pietre verdi. Poi si avvicinò alla credenza, prese il bricco che il lattaio di Henlon li aveva appena riempito, versò il latte tiepido gorgogliante in un piattino e lo posò lentamente in terra. Grrrrrrr! esclamò lei e corse al lambire. Guardò i baffi splendere metallici nella debole luce mentre lei ammusava tre volte e leccava lievemente. Chissà se è vero che se gli elitagli non pigliano più topi. Perché? Risplendono al buio, forse. Le punte. O una specie di antenne al buio, forse. Tese l'orecchio al leccottio. Uova e prosciutto? No. Niente uova buone con questa siccità. Ci vuole acqua fresca pura. Giovedì. Non è nemmeno giornata per un rognone dicastrato da bacli. Fritto nel burro. Uno zinzino di pepe. Meglio un rognone di maiale da glugatz. Aspettando che l'acqua bolla. Leccò più lentamente, poi ripulì ben bene il piattino. Perché hanno la lingua così ruvida? Per leccare meglio. Tutta a buchi porosi. Niente da mangiare per lei. Si guardò intorno. No. Con le scarpe che scricchiolavano, in sordina salì la scala fino al vestibolo. Si fermò alla porta della camera da letto. Forse le piacerebbe qualcosa di saporito. Fettine di pane imburrato. Le piacciono la mattina. Forse, però. Una volta tanto. Disse a bassa voce nel vestibolo vuoto. Vado qui all'angolo. Torno tra un minuto. Udita la sua voce dir questo soggiunse. Vuoi niente per colazione? Un debole grugnito assonnato rispose. No. Non voleva niente. Senti poi un profondo sospiro caldo, più debole, mentre la donna si rivoltava e gli anelli d'ottone ballonzolanti della lettiera tentinnavano. Bisogna che mi decida a farli riparare. Peccato. Fin quassù da Gibilterra. Dimenticato quel po' di spagnolo che sapeva. Chissà quanto l'ha pagato suo padre. Vecchio stile. Eh sì, naturalmente. Comprato all'asta del governatore. Venduto al primo colpo. Tenace nel contrattare il vecchio Twidi. Sì, signore. Fu a Plevna. Vengo dalla gavetta, signore. Ne sono fiero. Eppure aveva abbastanza cervello da far soldi coi francobolli. Questo si chiama esser previdenti. La sua mano tolse il cappello dal piolo, sopra il suo cappotto pesante con le iniziali e l'impermeabile usato comprato all'ufficio getti smarriti. Francobolli. Figurine dal retroadesivo. Direi che un sacco d'ufficiali siano nel giro. È naturale. La scritta sudaticcia nell'interno del cappello gli disse muta. Plasto. I migliori. Cap. Sbirciò rapido all'interno della banda di cuoio. Cartoncino bianco. Bene al sicuro. Sulla soglia si tastò nella tasca posteriore dei pantaloni per accertarsi se aveva la chiave. Non c'è. Nei pantaloni che mi sono cambiato. Devo prenderla. La patata c'è. L'armadio scricchiola. Inutile disturbarla. Quando si è rivoltata era piena di sonno. Si tirò dietro la porta d'ingresso molto piano. Ancora un po', finché la parte inferiore del battente ricadde piano sulla soglia. Lento coperchio. Sembrava chiusa. Va bene finché torno comunque. Attraversò dalla parte del sole, evitando la botola malferma della cantina del numero 75. Il sole si avvicinava al campanile della chiesa di Giorgio. Sarà una giornata calda, immagino. Specialmente con questo vestito nero si sente di più. Il nero conduce, riflette, rifrange il calore. Ma non poteva uscire con quel vestito chiaro. Come se andasse a un picnic. Le palpebre gli si abbassavano spesso dolcemente mentre camminava nel beato tepore. Il furgoncino del pane di Boland che distribuisce a domicilio e in telai il nostro quotidiano. Ma lei preferisce le forme di pane di ieri rivoltate nel forno con la crosta superiore calda crocchiante. Ti fa sentir giovane. In qualche luogo dell'Oriente. Mattina presto. Muoversi all'alba. Viaggiare intorno, davanti al sole. Rubargli una giornata di cammino. Seguitare sempre così, mai diventare più vecchio di un giorno tecnicamente. Camminare lungo una spiaggia. Paese straniero. Arrivare alla porta ad una città. Sentinella lì, vecchio soldataccio anche lui, i baffoni del vecchio tuidi appoggiato a una specie di lunga lancia. Vagare per strade all'ombra di tende. Volte inturbante che passano accanto. Oscure caverne di negozi di tappeti. Un omone turco il terribile seduto a gambe incrociate a fumare una pipa dalle grandi volute. Grida di venditori per le strade. Bere acqua aromatizzata al finocchio. Sorbetto. Vagabondare tutto il giorno. C'è caso di incontrare qualche ladrone. Beh, incontriamolo. S'avvicina il tramonto. Le ombre delle moschee lungo le colonne. Sacerdote con un cartiglio arrotolato. Un fremito negli alberi. Il vento della sera. Io passo avanti. Cielo d'oro evanescente. Una madre mi sta a guardare dalla soglia. Chiamo ai figli a casa nella loro lingua oscura. Muro alto. Oltre esso corde pizzicate. Luna nel cielo notturno. Violetto. Colore delle giarrettiere nuove di Molly. Corde. Ascolta. Una fanciulla suona uno di quegli strumenti. Come si chiamano? Rebecca. Io passo. Probabilmente non è affatto così. Roba che si trova nei libri. Nella scia del sole. Sole raggiante sulla testata. Sorrise compiaciuto. Quello che disse Arthur Griffith della testatina sopra l'articolo di fondo del Freeman. Il sole dell'autonomia che sorge a nord ovest dal vicolo dietro la banca d'Irlanda. Prolungò il suo sorriso compiaciuto. Trovata da giudeo quella. Sole dell'autonomia che sorge a nord ovest. Si avvicinò alla mescita di Larry O'Rourke. Dall'inferriata della cantina veniva fuori, a fiotti, il molle fortore della birra. Dalla porta aperta il bar sprizzava i fluvi di zenzero, polvere di tè, briciole di biscotti. Buon locale comunque. Proprio dove finisce il traffico della città. Per esempio, Maholi laggiù niente bene come posizione. Certo, se facessero passare una linea tramviaria lungo la circonvallazione nord dal mercato del bestiame fino al porto, il valore andrebbe su come un razzo. Testa calva dietro la persiana. Vecchio volpone. Non c'è da provare a lavorarselo per un'inserzione. Del resto il suo mestiere lo sa meglio lui. Eccolo là. Proprio lui. Il mio bravo Larry, appoggiato in maniche di camicia al recipiente dello zucchero, attento al garzone in grembiule che fa la pulizia con secchia e cencio. Simon Dedalus gli fa il verso a perfezione, con gli occhi strizzati. Sa cosa le dico? Che cosa, mister O'Rourke? Sa che cosa? I russi, i giapponesi se li mangerebbero per colazione. Fermati a scambiare una parola. Sul funerale, magari. Peccato il povero Dignam, mister O'Rourke. Voltando per Torset Street, disse Arzillo salutando attraverso la porta aperta. Buongiorno, mister O'Rourke. Buongiorno a lei. Bel tempo, eh? Come no? Dove li trovano i quattrini? Vengono garzoni dai capelli rossi dalla contea di Leitrim. Sciacquano vuoti e scolano fondi di bicchiere in cantina. E poi, attenzione, ti rispuntano come altrettanti Adam Findlater e Dan Tallon. Pensa anche alla concorrenza. Sete universale. Bel rompicapo sarebbe attraversare Dublino senza passare davanti a nessun bar. Mettere da parte non possono. Fregano gli ubriaconi, forse. Segnano tre e riportano cinque. E con questo uno scellino qua, uno là, sgoccioli. Forse sulle ordinazioni all'ingrosso. Fanno il doppio gioco coi viaggiatori di convergio. Sistemala col padrone e ci dividiamo la torta, capito? Quanto farebbe al mese sulla birra soltanto? Diciamo dieci barili di merce. Diciamo uno sconto del 10 per cento. No, di più, 15. Oltrepassò San Giuseppe, la scuola governativa. Urla di marmocchi, finestre aperte. L'aria fresca rinforza la memoria. Oppure un coro cadenzato. A, B, C, D, F, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Ragazzi sono. Sì. Inish Turk. Inish Shark. Inish Boffin. Hanno la geografia. Io ho la mia. Sleeve Bloom. Si fermò davanti alla vetrina di Glogatz a guardare le collane di salsicce, i sanguinacci bianchi e neri. Quindici moltiplicato per... Le cifre gli sbiancarono in mente insolute. Contrariato le lasciò svanire. Mangiava con gli occhi le lustre filze di carne insaccata e inalava tranquillo il tepido aroma del sangue di porco, cotto e drogato. Un rognone trasudava gocce di sangue sul piatto di ceramica figurata. L'ultimo. Si fermò al banco accanto alla domestica dei vicini. Forse avrebbe comprato anche quello leggendo dalla lista che aveva in mano. Screpolata. La soda del bucato. E una libra e mezzo di salsicce, Danny. Posò gli occhi sulle sue anche vigorose. Lui si chiama Woods. Chissà che cosa fa. La moglie anzianotta. Sangue nuovo. Vietati corteggiatori. Braccia robuste. Quando sbatte un tappeto sulla corda del bucato. Sbatte. E come, per Dio. E come la gonna sbilenca le ondeggia ogni colpo. Il norcino dagli occhi di furetto ripiegò le salsicce che aveva staccato con le dita chiazzate. Rosa salsiccia. Carne soda quella come di giovenca stallereccia. Lui prese un pezzo di carta dalla pila di fogli tagliati. La fattoria modello a Kinneret sulle rive del lago di Tiberiade. Può diventare una casa di cura ideale per l'inverno. Mosè Montefiore. Mi pareva che fosse lui. La casa colonica. Un muro intorno. Sfocato bestia malpascolo. Allontanò un po' il foglio. Interessante. Lesse un po' più da vicino il titolo. Lo sfocato bestiame al pascolo. Il foglio frusciante. Una giovenca bianca. Quelle mattine al mercato del bestiame. Le bestie che mugivano nei chiusi. Pecore marchiate. Escrementi che cadevano con un tonfo. Gli allevatori con le scarpe ferrate che guadavano attraverso la sporcizia. Dando manate su un di dietro ben pasciutto. Questo è di prima qualità con verghe non sbucciate in mano. Teneva il foglio di sghembo pazientemente, contenendo i sensi e la volontà, il morbido sguardo soggiogato in riposo. La gonna sbilenca che ondeggiava. Colpo su colpo su colpo. Il norcino afferrò due foglie dalla pila, involtò le salsicce di prima qualità e fece una smorfia rossa. Ecco, signorina mia, disse. Lei porse una moneta, sorridendo ardita, tendendo il grosso polso. Grazie, signorina mia, è uno scellino e trapense di resto. A lei, prego. Mr Bloom indicò frettolosamente col dito. Raggiungerla e andarle dietro se camminava piano, dietro i suoi prosciutti sommoventi. Piacevoli a vedersi la mattina presto. Sbrigati, porca miseria. Battere il ferro finché è caldo. Lei indugiò al sole, fuori della bottega, e poi prese pigramente a destra. Lui tirò un sospiro giù per il naso. Non capiscono mai. Mani screpolate dalla soda. E anche le unghie dei piedi incrustate. Scapolari barrone a brandelli la proteggono in tutti e due i modi. La puntura dell'indifferenza s'accese in tenue piacere nel suo petto. D'un altro. Un pizzardone fuori servizio l'abbracciava in Eccles Lane. A loro piacciono sostanziose. Salsicce di prima qualità. Per favore, signora guardia, mi sono smarrita nel bosco. Tre pence, prego. La sua mano accettò l'umida molle ghiandola e le infilò in una tasca della giacca. Poi la mano cavò tre monete dalla tasca dei pantaloni e le depose sulle puntine di gomma. Posate lì furono contate a occhio rapidamente e rapidamente fatte scivolare disco su disco nel cassetto. Grazie a lei, signore. Alla prossima volta. Un puntino di fuoco bramoso negli occhi volpini lo ringraziò. Distolse lo sguardo dopo un istante. No, meglio di no. La prossima volta. Buongiorno, disse andandosene. Buongiorno, signore. Nessuna traccia. Scomparsa. Che importa. Tornò indietro lungo Dorset street leggendo serio. Agendaznitaim. Società piantatori. Acquistare estesi tratti di terreno sabbioso dal governo turco e piantarvi eucalipti. Eccellenti come ombra, combustibile e legno da costruzione. Aranceti e immensi campi di meloni a nord di Jaffa. Paghi otto marchi e ti piantano un dunam di terreno a olivi, aranci, mandorli o cedri. Gli olivi costano meno. Per gli aranci ci vuole l'irrigazione artificiale. Ogni anno ti spediscono parte del raccolto. Il tuo nome è iscritto a vita nei registri dell'associazione. Puoi pagare dieci incontanti e il resto a rate annuali. Bleibeltroistrasse 34 Berlino W15. Niente da fare. Ma è un'idea. Guardò il bestiame sfocato nell'argentica calura. Incipriati olivi argentei. Lunghe giornate tranquille. Potare. Maturare. Le olive si mettono negli orci, vero? Me ne sono rimaste alcune di Andrews. Molly le sputava di bocca. Ora sa che sapore hanno. Le arance avvolte in carta velina e in casse. Anche i cedri. Chissà se il povero Citron è ancora vivo in St Kevin's Parade. E Mastiansky con la vecchia cetra. Che belle serate si passavano allora. Molly nella sedia di vimini di Citron. Piacevoli a tenersi in mano il fresco frutto cereo. Tenerlo in mano. Portarlo alle narici e odorarne il profumo. Così. Profumo greve, dolce, selvaggio. Sempre lo stesso. Per anni e anni. E i prezzi erano alti anche, mi diceva Moisel. Piazza Arbuto. Via delle Belle. I bei tempi che furono. Devono essere senza nemmeno un difetto, diceva. Venuti di così lontano. Spagna, Gibilterra, Mediterraneo, Il Levante. Cassette in fila sul molo a giaffa. Un tale che le spunta una a una nel suo libricino. Scaricatori scalzi dalle tute sporche a maneggiarle. Ecco come si chiama che esce da… Come va? Non mi vede. Tizio che si conosce quel tanto da salutarlo. Un seccatore. Visto di spalle somiglia a quel capitano norvegese. Chissà se lo incontro oggi. L'annaffiatrice. Fa piovere. Così in cielo come in terra. Una nuvola cominciò a coprire il sole lentamente. Tutto. Grigia. Lontana. No. Non così. Una terra arida. Deserto spoglio. Lago vulcanico. Il mar morto. Niente pesci. Niente vegetazione. Affondato giù nella terra. Nessun vento solleverebbe mai quelle onde. Grigio metallo. Acque dalle nebbie venefiche. Pioggia di zolfo. Così l'han chiamata. Le città della pianura. Sodoma. Gomorra. Edom. Tutti nomi morti. Un mare morto in una terra morta, grigia e vecchia. Vecchia ora. Generò la più antica, la prima delle razze. Una vegliarda curva attraversò la strada, uscendo da Cassidi, tenendo stretta per il collo una bottiglia da un quarto. La gente più antica. Ha errato lontano per tutta la terra, di cattività in cattività, moltiplicandosi, morendo, nascendo dovunque. Giaceva lì ora. Ora non poteva più generare. Morta. Quella d'una vecchia. La grigia vulva affossata del mondo. Desolazione. Un grigio orrore gli consumava la carne. Zeppando il foglio in tasca, prese per Eccles Street, affrettandosi verso casa. Freddi umori gli scorrevano per le vene, gelandogli il sangue. La vecchiaia lo incrostava ad una scorza salina. Ecco, ci sono. Sì, ci sono. Boccaccia della mattina. Brutti pensieri. Svegliato male. Devo riprendere quegli esercizi di Sandow. Giù sulle mani. Case di mattoni marrone e chiazzato. Il numero 80 ancora sfitto. Perché poi? È valutato solo 28. Towers Buttersby. North MacArthur. Le finestre del salottino impiastricciate di cartelle. Impiastri su un occhio malato. Odorare il dolce vapore del tè. Il fumo della padella. Il burro sfrigolante. Essere vicino alla sua ampia carne calda di letto. Sì. Sì.